Sbricatevi, se no rischiamo di portare l'Italia in default. Per l'amore di Dio se ne vada, era uno dei titoli della stampa internazionale. Oggi abbiamo riscontrato che non è così, lo spread era a 530, poi è sceso a 350, per poi ritornare proprio ieri a 440 punti. Significa che la responsabilità non era di Berlusconi, ma soprattutto di una politica incapace di governare alcuni processi. Oggi si stanno facendo manovre fortissime, soprattutto nel campo pensionistico, impensabile fino a 20 giorni fa. Immaginiamoci cosa sarebbe successo se questa manovra fosse stata fatta da Silvio Berlusconi. Vi ricordate la manovra Maroni, uno scalone di tre anni, parlavano di un grande scalone, oggi hanno fatto un super scalone di sei anni per quanto riguarda le pensioni e nessuno parla. Non parla la CGL, non parla la CIS, non parla la Will, al massimo fanno due ore di sciopero, di protesta. Allora significa che questo Paese deve essere governato solo con la frusta, perché democraticamente non si riesce a governarlo e soprattutto manca quella capacità politica di contrapporsi, sì durante la campagna elettorale, ma di confrontarsi il giorno dopo per gli interessi e per il bene degli italiani. Finquanto non capiremo questo, questo Paese avrà sempre delle grosse difficoltà. Non le sembra una eccessiva scarsità di fiducia nei confronti degli italiani dire che il Paese debba essere governato solo con la frusta? Eh ma purtroppo assistiamo a questo. Quello che è successo venti giorni fa è un qualcosa di abberrante nella nostra democrazia. Cioè la nostra democrazia è stata ferita profondamente, perché chi ha vinto le elezioni è stato tra virgolette costretto a lasciare sotto pressione ovviamente di poteri forti nel nostro Paese. Era il male assoluto. Chi ricorda Bersani che diceva continuamente Berlusconi deve andare via, Berlusconi deve andare via. Per fare che cosa però? Per mettere un governo eletto democraticamente dal popolo in mano ad un governo tecnico che ha adottato una manovra talmente forte, talmente pesante per i nostri cittadini. Vorrei ricordare che questa manovra comunque costerà ad ogni famiglia italiana circa 800 euro che sommato alle manovre precedenti arriverà a 2.000 euro. È chiaro che si bloccano i consumi, è chiaro che questo tipo di manovra mette in difficoltà in questo momento storico tutte le famiglie italiane. Ma è chiaramente un provvedimento straordinario che io saluto anche con soddisfazione perché quando è necessario prendere provvedimenti forti, decisi bisogna farlo nell'interesse generale del Paese. Però, viva Dio, queste cose vanno fatte nell'ambito di una regola democratica, nell'ambito di un rispetto delle regole perché se non rispettiamo le regole rischiamo tutti quanti. Presidente, il professor Monti, comunque il suo governo, hanno una maggioranza parlamentare espressa liberamente da deputati e senatori democraticamente eletti, gli stessi che fino a 20 giorni fa sostenevano Silvio Berlusconi. Non solo, ma ha una maggioranza che va dal terzo polo al Partito Democratico, all'Italia dei Valori, al Popolo della Libertà. Oggi l'unico partito che si è posto all'opposizione è solo la Lega Nord. Quindi questi provvedimenti che potevano essere condivisi anche con un governo Berlusconi, all'epoca non erano condivisi, oggi sono stati condivisi, mascherando questo decreto sotto il nome e la denominazione di salvare l'Italia. Quindi l'Italia poteva essere salvata anche attraverso la democrazia. Comunque diciamo che va tutto bene, diciamo che le forze politiche devono rispettare l'impegno che hanno preso con gli elettori. Non possiamo permetterci il lusso di abbandonare la barca quando questa barca rischia di affondare. È il momento di rimboccarci tutte le maniche e lavorare soprattutto per i nostri figli, per i nostri figli per lasciare un qualcosa di importante ai nostri giovani. I nostri giovani che oggi sono costretti ad andare via, i nostri giovani che sono costretti a trovare un posto di lavoro in altri paesi più fortunati del nostro. Lo dobbiamo fare soprattutto per i nostri imprenditori, per il nostro tessuto sociale ed economico, questi imprenditori che ancora credono nel nostro paese, che credono ancora nelle loro grosse potenzialità e la politica oggi ha il dovere morale, etico di porsi di nuovo in gioco e dimostrare di essere all'altezza della situazione. Presidente, telegraficamente l'amministrazione provinciale di Frosinone non ha ancora un vicepresidente della Giunta? E questo lo dobbiamo chiedere al presidente Antonello Iannarilli, non a me. Lei è un suggerimento visto che fa parte comunque anche dell'amministrazione provinciale? Io credo che nella vita politica, nella vita gestionale di un ente ci sono degli accordi e questi accordi debbano essere sempre rispettati perché quando non si rispettano più gli accordi si entra in un sistema senza regole e il sistema senza regole può produrre da un lato l'anarchia e dall'altro può produrre anche una crisi irreversibile che può portare ovviamente anche all'elezione anticipata. Quindi io sono convinto che il nostro presidente Antonello Iannarilli sappia quale sono le regole da applicare per la nomina del vicepresidente, lo faccia in modo sereno, con tranquillità, senza pressione da parte di nessun partito o di nessuna corrente all'interno del partito. Presidente, lei ha preso recentemente la tessera del partito radicale, lascia il PDL? No, ho preso la tessera del partito radicale perché il partito radicale è un transpartito e quindi dà la possibilità di tesserare anche uomini già tesserati in altri partiti. Io l'ho preso soprattutto in un primo momento sotto anche una pressione di colleghi consiglieri del regionale del partito radicale, ma poi mi sono convinto dell'importanza di avere questa tessera, una tessera che alla fine ti pone di fronte la difesa dei problemi reali, veri, la difesa dei nostri diritti, dei diritti umani che non possono essere né di destra né di sinistra né di centro, devono appartenere questi diritti alle singole coscienze. Proprio oggi ho partecipato al 39esimo congresso transnazionale del grande leader Pannella e abbiamo affrontato in questo congresso anche il ruolo importante che ha l'Assemblea legislativa regionale in tema di diritti umani. Quindi abbiamo ricordato alcuni passaggi importanti sia per quanto riguarda la difesa dei diritti umani in Tibet e in Iran con la costituzione dell'intergruppo e soprattutto di alcune emozioni che abbiamo votato in comune per quanto riguarda la situazione delle carceri in Italia e per quanto riguarda la riforma della giustizia. Tra l'altro il Popolo e la Libertà è stato sempre in prima linea per portare avanti questo argomento molto importante e spero che si faccia subito per il bene e l'interesse del nostro Paese. Grazie al Presidente Mario Abruzzise. Ci vediamo tra una settimana. Grazie. Arrivederci.